Sulle montagne russe del budello ghiacciato di Krasnaya Poliana non ha sentito i 40 anni appena compiuti, né il peso di essere sulla soglia della storia. Armin Zegler ha vinto la medaglia di bronzo a Sochi, vent'anni dopo quella vinta a Lillehammer. Con una fola di inseguitori che di anni ne hanno la metà, ripeteva che il podio sarebbe stato davvero un'impresa, che puntualmente però ha centrato. E stavolta è di quelle che lasciano il segno, sei medaglie in altrettante edizioni dei giochi, illuminate dalla doppietta d'oro tra Salt Lake e Torino. Mai nessuno era riuscito a salire sul podio olimpico in gare individuali per sei volte di fila. Ha superato tutti e nello slittino anche un'altra leggenda come Georg Haakl, rimasto fermo a cinque. Quattro manche pulite, dice l'azzurro di Foyana, dietro solo a Felix Lock, il tedesco ventiquattrenne che bissa l'oro di Vancouver. E all'altro vecchietto, Albert Demchenko, che a 42 anni e in casa si prende un argento da star. È un fenomeno, è l'omaggio del cannibale al siberiano dagli occhi color ghiaccio, ma lui è nella leggenda.